È una gara importante, è una gara a cui deve essere data la giusta importanza perché poi è vero che noi vogliamo pensare di partita in partita ma è anche vero che poi ogni gara ha una storia a sé, ha un percorso però sono discorsi che siamo una squadra ormai consapevole quindi credo che sappiamo indipendente dal valore dell'avversario sappiamo quello che possiamo dare noi e questa è la cosa più importante almeno per me sono d'accordo che sono dei tre ottimi portieri meriterebbero tutti e tre di giocare poi le scelte si fanno in relazione anche a altri aspetti come la gestione della partita e in questo aspetto che per me è determinante soprattutto con la nostra difesa e credo che è una difesa anche giovane e credo che l'Iss dia garanzie importanti in questo senso oltre che essere un grande portiere e quindi la mia scelta per adesso è sull'Iss però mi meriterebbero di giocare tutti e tre sono tre bravi portieri veramente ormai non ci si illude più per delle vittorie ci si deprime per delle sconfitte però è normale che sapevo che c'era molto lavorare nel periodo che sono stato qui prima di quella partita mi sono documentato molto sul girone sugli avversari e come ho sempre detto so che possiamo battere chiunque ma possiamo anche perdere con chiunque come è stato poi è stata una partita abbastanza strana dove non credo che meritiamo di perdere però poi quando si perde il risultato è così l'essenza del calcio è il risultato sportivo purtroppo o per fortuna Il termo ormai ha una struttura che indipendente dalla dislocazione di calciatori in campo ha una struttura che è formata da principi di gioco e in relazione a quelli, in relazione all'avversario mettiamo di calciatori in campo chi dà più garanzie da un punto di vista di presenza in campo in quel momento a volte abbiamo necessità di fare dei duelli in determinazione del campo e ci vogliono giudicare alcune caratteristiche delle volte altre quindi in relazione a questo ma i nostri principi sono sempre gli stessi credo che i ragazzi, lo staff sanno benissimo lavorando sulla consapevolezza quindi sappiamo quello che siamo entriamo in campo consapevoli di quello che sappiamo fare e quello che riusciamo a fare sarà il massimo delle nostre possibilità le considerazioni e trarremo alla fine della gara